Ecco il pettegolezzo più bollente direttamente dalla casa più spiata d'Italia. Se pensavate che le dinamiche amorose nella casa del grande fratello fossero tranquille, preparatevi a un terremoto emotivo che farà tremare anche il terreno sotto i vostri piedi. Prima di cominciare ti chiedo di iscriverti, mettere un bel mi piace e condividere sui tuoi social preferiti. Il tuo supporto è molto importante per me. Grazie. La bellissima Anita Oliveri ha messo Vittorio Menozzi nei guai, sferrandogli un duro due di picche che sta facendo scalpore in tutta Italia. Il bel modello Parmenzi aveva fatto un ardito passo confessando il suo interesse per Anita e mandando in subbuglio le simpatie amorose all'interno della casa. Nell'ultima puntata, Vittorio aveva svelato che nutriva un certo feeling per Anita e, in qualche modo, aveva tirato un brutto scherzo a Heidi Baci, con la quale sembrava avere una connessione speciale. Ma le sorprese non finiscono qui. La bionda e bellissima Anita, tuttavia, ha dichiarato senza mezzi termini che Vittorio non è il suo tipo e che lui è lontanissimo da ciò che lei cerca in un uomo. Inoltre, ha rivelato di avere una situazione complicata al di fuori della casa con il suo fidanzato, Edoardo Sanson, con il quale sembra esserci un andirivieni di emozioni. Anita ha dichiarato, Ora la testa io non ce l'ho per nulla. Quando uscirò capirò cosa fare con il ragazzo fuori. Secondo me lui ancora mi piace, però non so se sono innamorata. Per questo quando uscirò vedrò cosa fare e deciderò come agire. Se lui adesso che io sono qui sta facendo cose con altri allora è già una dimostrazione e poi chiuderemo. Certo, se non avessi avuto questa situazione, forse qui dentro mi sarei divertita di più e sarei stata anche più spensierata. Le sue parole hanno scosso profondamente la casa, ma c'è di più. Anita ha negato qualsiasi coinvolgimento romantico con Vittorio e ha sottolineato che lei ha bisogno di un altro tipo di uomo. La dichiarazione di Anita ha scioccato non solo Vittorio, ma tutti gli spettatori, che non si aspettavano una svolta così drammatica nella storia d'amore in corso nella casa del grande fratello. Ma le sorprese potrebbero non essere finite qui. Anita ha accennato a una possibile comparsa di nuovi concorrenti nella prossima settimana, il che potrebbe portare ulteriori sconvolgimenti nelle dinamiche amorose all'interno della casa. E cosa ne pensa il suo fidanzato al di fuori della casa? Anita ha dichiarato il mio ragazzo? No figurati, lui non lo farebbe mai. Forse per una sorpresa, ma non certo per fare il concorrente. Le emozioni sono alle stelle nella casa del grande fratello e non possiamo fare altro che aspettare con il fiato sospeso per vedere come si svilupperà questa complicata storia d'amore. Iscriviti su News Gossip World per tutte le ultime notizie e scoop direttamente dalla casa più intrigante d'Italia. Le emozioni sono alle stelle nella casa del grande fratello e non possiamo fare altro che aspettare con il fiato sospeso per vedere come si svilupperà questa complicata storia d'amore. Restate sintonizzati su News Gossip World per tutte le ultime notizie e scoop direttamente dalla casa più intrigante d'Italia.